dallo stadio olimpico di torino juventus milan buonasera da fabio caressa e beppe vergomi c'è sempre un ric centrale il taglio invece per del piero c'è un contatto calcio di rigore calcio di rigore secondo me c'è vediamo alex del piero 251 con la yoga la palla ancora per sedorf uno contro uno di sedorf le finte su nedri arriva al traversone secondo palo clamoroso errore sottoporta di ambrosini birlo manninger poi sedorf il traversone manninger ancora non ha rimbalzato il pallone ma era difficile lo stesso per manninger arriva al traversone di zambrotta c'è un altro contatto per il pallone per sedorf ha ribattuto ghiellini si impenna ancora il pallone ronaldino manninger e c'è fallo su manninger calcio di punizione per la yoga calazze il zonativo calazze va dentro baronadino 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 il cross 1-1 pareggio strameritato del milan perché sta veramente giocando una grande partita la palla arriva per melbo anzi chiellini chiellini per il 2-1 non lo chiude nessuno arriva al traversone di decennie maui 3-1 ancora schiaccia in porta maui palla verso il centro anticipato ci sono codi contropazzo che parata di abbiati l'ha vista all'ultimo ronaldino sedorf allarga per ambrosini zona tiro lo prova il destro massimo ambrosini con una deviazione 3-2 undicesimo chisio cerca l'apertura a memoria splendida per decennie prova ad andare decennie seguito da zambrotta ancora forza di decennie e zambrotta lo travolge secondo giallo per zambrotta che finisce la partita anzitempo sotto la doccia marchisio amaury con il petto si socò amaury ancora la porta avanti amaury prova a girare amaury 4-2 doppietta di amaury palla dentro ancora chiede decennie il pallone perde il piede la finta palo clamoroso palo di del piede una grandissima juventus batte un buon milan 4-2